Fare la polizia ad oggi vuol dire essere molto responsabile nei confronti del cittadino perché comunque sia con tutto quello che sta succedendo nel mondo noi dobbiamo essere forti soprattutto per la nostra popolazione. È sempre stata la mia passione fin da quando ero bambina perché mi piace comunque stare a contatto con la gente e sempre essere a disposizione della gente comunque dare sempre una mano, stare anche per strada e a contatto. C'è molto entusiasmo nelle parole di questi giovani due dei 159 allievi del 193esimo corso della scuola di polizia di Peschiera che raggiungeranno in questi giorni le loro destinazioni. Sono stati preparati per nove mesi quindi un lungo percorso fatto di teoria, fatto di pratica fatto anche del tentativo di insegnargli e di trasmettergli tanti valori il nostro è un compito difficile io dico spesso loro che la nostra è un po' una missione e quindi bisogna farla col cuore, con passione e soprattutto periodi come questo ci dicono anche quanto possa essere difficile il nostro lavoro insomma però non bisogna arrendersi, anzi bisogna andare avanti e trasmettere sicurezza ai nostri cittadini. Questa mattina per gli allievi si è tenuta l'ultima cerimonia dell'alza bandiera accanto ai poliziotti i bambini delle scuole elementari di Peschiera che hanno preparato un disegno per loro e hanno cantato l'inno nazionale italiano poi la marsigliese un minuto di silenzio per ricordare i morti di Parigi e per capire come spiegare questi attentati ai bambini Franz, insegnante di religione francese ci ricorda le parole del Papa e l'importanza di costruire la pace e il dialogo il primo atteggiamento che ha avuto è stato quello di mettermi in ascolto e mettendomi in ascolto ho sentito il disagio dei bambini perché poi i bambini sentono i commenti dei loro genitori vedono in tv, hanno visto le immagini e ho lavorato su questo, sull'ascolto, sulla loro emotività e l'obiettivo per dare un significato a questo evento così tragico perché poi si tratta di barbarie abbiamo cercato di fare dei disegni Servono nervi sempre più saldi e capacità di affrontare situazioni diverse, impreviste a volte sempre più difficili visto il quadro internazionale anche Sì, Antonio Montinaro che era il capo scorta della giudice Falcone diceva che bisogna avere paura non essere vigliacchi ma avere paura perché anche la paura serve però certo questo vuol dire sempre comunque avere nervi saldi avere per quanto possibile il sangue freddo perché noi dobbiamo pensare a noi, a noi stessi, ai nostri colleghi ai cittadini che ovviamente da noi ci aspettano sicurezza e hanno fiducia in noi ed è chiaro che momenti come questi rendono tutto più complicato più difficile perché quello che è successo in Francia i pericoli che ci sono in Italia ovviamente spaventano e spaventano pure i ragazzi che hanno una divisa ma che sono ragazzi di 23-24 anni insomma, ecco io credo che da queste paure invece uno debba trovare più coraggio e più forza per andare avanti